Il mondo è migliore con le persone migliori. Se la nostra terra vogliamo salvare, il riciclante dobbiamo fare. Ricambia il rispetto con il rispetto. Per il tuo buon futuro fai un buon lavoro di separazione dei rifiuti. Basta sprecare e vai di cominciare a riciclare. Siamo qui davanti a tutto il mondo per dire che non bisogna inquinare, anche in quarantena. Grazie per la visione! Grazie per la visione!